Un cordiale saluto di una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Imprunita e Barberino. L'area di servizio di Badia Alpino Ovest in direzione Roma per un guasto all'impianto non è fornito di carica batterie per auto elettriche. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Pisa, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Cascina e Pisa a nord-est. In direzione Mare, code l'uscita all'Astra a Signa e rallentamenti tra Monteluco ed Empoli Est. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici. La viabilità cittadina a Firenze proseguono i lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese fino al 16 luglio strada chiusa tra via della Pietra e via di Montughi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!